eccoci qua ragazzi ogni volta è sempre un'avventura nel mondo officina grit wall non dico commenti apro il cofono pepino e marietto è stato qua vediamo un po se riuscite a vederlo ca58.200 che è sta roba che la distribuzione adesso si fa 50.000 km che è sta roba ditemelo voi ragazzi scrivetelo nei commenti cosa può essere questo ca58.200 che è sta roba io me lo sto ancora chiedendo magari qualcuno aveva paura ha fatto la distribuzione 100.000 km prima aveva paura di spaccare facciamola prima la distribuzione ogni volta è sempre un mistero ovviamente sempre te saluto sempre te pepino e marietto perché mi sa che qua è roba tua fatemi sapere se magari qualcosa che mi può aiutare che io non senza parole ciao ragazzi